Si chiamava Nong Gift, era una bella ragazza di 21 anni d'età. Si trova in compagnia di diversi amici quando a un certo punto un conoscente con tre giovani si sarebbe avvicinato direttamente a lei, l'avrebbe vista ubriaca, si sarebbe offerto per accompagnarla a casa ma la ragazza non poteva minimamente immaginare che quei quattro ragazzi l'avrebbero dapprima stuprata, rapita e poi pestata fino a ucciderla. E così è quello che è successo distintamente alla fanciulla in questione. Ci troviamo a Ciantavuri in Telanghi, la fanciulla si trova all'interno di un locale per seguire la finale di Champions League tra il Real e il Liverpool. Un fanciullo si era avvicinato a lei, si era offerto di accompagnarla a casa e è stata caricata poi su un fuoco vicino, buttata o mai portata in un luogo isolato, abbandonato dove è stata prima stuprata, violentata a livello sessuale e poi fatta fuori. Il corpo, oramai seminuto della ragazza di 21 anni, è stato poi ritrovato il giorno dopo con una schiuma sulla bocca del sangue fuoriuscito dal naso, investiti spattati per terra proprio nei pressi di dove è stato ritrovato il corpo, oramai privo di vita. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione del presente video e andiamoci conto che non è tutto rosa fiori, quello che può essere visto e può essere notato, ma bisogna sempre stare attenti e soprattutto se si addorna o ragazze non accettare mai inviti da sconosciuti. Grazie a tutti.